Buon'altra, anche per una questione così di scioltezza, devo dire che non ho notato differenze, quindi poi non li ho reintrodotti per questo motivo, quindi fate anche un pochino di prove voi, ovviamente magari l'acqua della mia zona non è la stessa della vostra. La wet bag è fatta di un materiale che contiene gli odori. Allora, la wet bag è comunque un po' traspirante, quindi io li tengo in camera per un giorno o due, poi però li sposto, perché dopo un pochino, soprattutto se magari è una stanza che non è molto arieggiata, e comunque non è che c'è sempre corrente d'aria, un pochino di odori non si sente, quindi li tengo magari in bagno, la wet bag, sono più spesso la finestra aperta o la metto sul balcone. Un pochino si sente, se poi aprite sentite il vero odore, e per cui sì, comunque gli odori li tratti un pochino, dopo magari se è il terzo giorno, un pochino magari comincia a sentirsi, però ecco, la sua funzione la svolge bene. Io avevo un sacco di domande per te, con tutte queste domande me le sono persa, però una mi viene in mente su questo, tu non usi nella wet bag oli essenziali, cose varie, perché è fatta di pull, giusto? O comunque puoi metterci lì, in realtà c'è anche chi per non far toccare gli odori essenziali al pull, li metto su un batuffolo di cotone, o addirittura ho una wet bag che ho ereditato, che ho scoperto che dentro ha un pezzettino di stoffa cucita apposta per metterci gli odori essenziali, per cui insomma volendo è fattibile. Poi, ecco, sempre che io personalmente non lo faccio, un po' perché probabilmente tendo a ridurre tutte le... È il vero lavoro possibile, non è che i pannolini lavabili dobbiamo lavorare di più, giusto? Ecco, tutto così, però sì, insomma volendo, ovviamente non si mettono l'olio essenziale così a caduta nel mezzo dei pannolini, ma semmai ho magari su un batuffolino di cotone, è sul fondo della wet bag, anche se si vuole dare un pallonino aiuta, anche il bicarbonato aiuta, un sacchettino magari traforato col bicarbonato, che sono comunque cose... Vabbè, può stare tranquillamente a contatto, che l'olio essenziale purtroppo rovina un pochino, soprattutto il pull, poi dipende dalle stoffe, eccetera, però può rovinare un pochino, quindi l'olio essenziale è proprio sul pannolino, che finisce proprio a contatto col pannolino, non è il caso. Scusa, abbiamo le volpine così belle, poi le macchiamo con l'olio essenziale? No. Mi era venuta in mente una cosa prima, che pochi sanno, ma io mi ero fatta lasciare dal comune di Bergamo delle disposizioni, in realtà questa cosa che tu prima hai descritto, che è quella un po' più schifiltosa da fare col pannolino lavabile, quando i bambini fanno la cacca, dovremmo farla anche con i pannolini uso e getta, cioè per disposizioni di comune, di scariche, se voi andate a studiarvelo, non lo sa quasi nessuno, questa cosa quando la si dice, mi rimangono tutti i genitori, no, non è possibile, che schifo, ma in realtà il pannolino uso e getta, quando viene tolto dal sederino al bambino, se il bimbo ha fatto la cacca, bisognerebbe togliere il più possibile le feci e buttarle nel vattere e tirare l'acqua, perché il pannolino è un tipo di rifiuto, le feci sono un altro tipo, cosa che non fa nessuno, chi usa l'usegetta, se non ha proprio la consapevolezza, magari usa già un'usegetta biodegradabile con X canoni, ma se no, pochi lo fanno, ma è una cosa che dovrebbe essere fatta, poi non lo facciamo, ma... Ma no, quello che dici tu è vero, poi non lo dico sempre, perché magari poi risulta un po' pesante, se non lo dico io, tranquilla. Tecnicamente anche l'usegetta, la cacca, per dove possibile, andrebbe gettata nel water, perché altrimenti è residuo organico, potenzialmente infettante, poi va in discarpo, e ma tutto il resto. Certo, sì. Abbiamo detto che produciamo una tonnellata di pannolini a bambino, che rimangono lì una vita prima di biodegradarsi, se in più abbiamo dei rifiuti che sono ancora più rischiosi, potenzialmente. Ecco, quindi se lo guardiamo da questo punto di vista, e fossimo lì, anche quegli usaggietti, questa cosa, non ci serve alcun dubbio su cosa usare, perché tanto si vede, ma comunque... per buttare la cacchina. Ok. Ci viene in mente altro? Avete qualche altra domanda? Io intanto penso che cosa avevo, che cosa mi era venuto in mente, ma mi sono sfuggite, poi le farò in privato. Ecco, quindi, poi sui materiali, insomma, su quale pannolino scegliere? Cioè, come dicevo prima, è una cosa un po'... Allora, le taglie, brava Valeria. Grazie. Oh, Valeria sul pezzo, perché ha bisogno. Esatto. Perfetto. Allora, con la vita in mente, ci sono due tipologie di... o due fasce di età, diciamo. Ci sono i newborn, che tra l'altro mi erano preparati, che sono quelli mini-mignonne, non so se vedete la... Sì, ma tu espleta anche le tue funzioni di maternale, tanto che parli con noi e ci fai vedere, non ti preoccupare. è un'altra casa. I newborn, che sono appunto panolini mini, che di solito vestono... a quattro anni... Ok, dopo rispondo anche a questo. Che di solito vestono dai due chili, due chili e mezzo, fino ai quattro chili, quindi, diciamo, bimbi molto piccolini. e poi abbiamo la taglia unica, che è quella che solitamente, insomma, si acquista all'inizio, che parte dai quattro, quattro chili e mezzo, poi dipende, insomma, anche dalla formazione fisica del bambino, fino, indicativamente, insomma, allo spandolinamento. quindi, i newborn sono ottimi se nasce un bambino che è molto piccolino, come appunto era successo a Meconogli, che era nato di due chili e qualcosa, e io avevo preso tutti i taglia unica, per cui non ho potuto utilizzarli all'inizio, e ho preso qualche newborn usato per, insomma, fare un uso saltuario dei lavabili. In taglia unica, invece, appunto, seguono un pochino tutto il percorso, e si regolano con bottoncini e o velcro. Quindi, aspetta, vediamo. Ce n'è ragione di una testa. Apri, chiudi, giri, diciamo che potenzialmente, magari, se una persona non sa bene che investimento fare, lo fa più sulla taglia unica, anche perché all'inizio, magari, c'è l'allattamento da consolidare, capire, conoscere il bambino. Si possono usare da subito, eh, i lavabili. C'è la tua qualche riflessione, insomma, allora, questo è tutto aperto, quindi, i bottoncini che vedete qua, in altezza, si chiamano bottoncini di resize e mi danno l'ampiezza, praticamente, del giro poscia. Quindi, così, è la dimensione più grande. se io prendo il bottoncino quello più in basso e lo misco alla clip sopra, adesso, scusate, lo faccio girata da questa parte, ok, vedete che ho accorciato tutta l'altezza, quindi l'ho reso la sua dimensione, diciamo, più piccola. E il giro vita è uguale, si regola sempre o con i bottoncini, quindi, cambiando il giro vita, oppure con il velcro, scelta di bottoncini e il velcro in realtà è abbastanza soggettiva. I bottoncini sono un po' più durevoli nel tempo, nel senso che il velcro ha un'usura un po' maggiore, insomma, con tutti i lavaggi che bisogna fare in lavatrice. il velcro ha una regolazione magari un po' più rapida, nel senso che è al millimetro e i bottoncini ci impieghi quel, non so, quattro secondi in più e stiamo per chiudere. Io stavo per ridire di nuovo la prova di papà, ma poi è... Anche di i bottoncini, nel senso che sempre, no, e mi ho già citato un compagno preferito il velcro. No, sì, l'abbiamo perso, ok, e poi per dire ci sono mamme che a un certo punto hanno smesso di comprare il velcro perché i bambini hanno imparato ad aprirseli da soli, però, insomma, quello... Quello che si è da pannolino ma in un altro senso, nel senso che non lo volevano più proprio. O anche così, magari per gioco, insomma, in realtà è molto soggettivo il velcro, un cino non c'è un migliore o peggiore. E... Quindi, quello che dicevo te, i new warm sono sicuramente un investimento che si ammortizza meno nel tempo perché, tra l'altro, purtroppo, non è propriamente prevedibile quanto sarà grande il nostro bambino quando nasce, quindi è anche difficile sapere se dovrò prendere più il new warm piuttosto che magari solo taglia unica per quante previsioni possano fare insomma, con le ecografie perché Isabella, la mia seconda, era schimmata minuscola quindi questa volta mi ero preparata con il new warm prefold e un toro e quindi praticamente sono passate a taglia unica e il new warm credo di averli usati una settimana e mezza e per cui insomma purtroppo c'è questa un po' incognita di come sarà effettivamente il bimbo o la bimba quando nasce e sicuramente se nasce piccola risfrutto insomma risfrutto un bel po' per cui se poi nel new warm decido di passare a taglia unica posso dire che comunque è stato un buon investimento perché se passa a taglia unica vuol dire che mi sono trovata bene insomma è il mio percorso continuo e altrimenti ci sono anche altre opzioni per cui posso valutare per quando sarà direttamente la taglia unica e magari il new warm non è giallo e così insomma si ammortizzano anche molto le spese e infatti per questo motivo adesso magari prima no non l'avevamo detto però come pannolino tecca o di studizione vabbè due kit uno taglia unica e uno new born e quelli new born si trovano un po' meno in giro però secondo me sono molto utili proprio perché si va sul sicuro anche perché insomma con un noleggio di qualche settimana di prova sono magari proprio quelle settimane in cui poi il bambino cresce e magari quando ti smetti il noleggio del new born puoi già passare direttamente a Italia Unica ma nel frattempo hai capito quali sono le tipologie più adatte a te quali i materiali eccetera eccetera fanno un po' da rodaggio in new born per capire un po' cosa fare Silvia avevo una domanda la mia bimba ha 4 anni di notte ancora usa il pannolino ho dovuto abbandonare i lavabili perché non reggono più consigli non ho capito se li usavi ce li avevo letto scusa prima ma stavamo chiacchierando se li utilizzavi cioè adesso perché allora ci sono pochi però ci sono lavabili per bambini più grandi rispetto magari alla soglia standard dei 2 anni e mezzo insomma 3 poi dipende ovviamente da quanto è grande il bambino per cui lavabili per bimbi più grandi quindi diciamo un extra size ci sono non ce ne sono tantissimi però insomma ci sono delle marche che le fanno soprattutto fitted quelle fanno in interno totalmente in tessuto e non so insomma altre mamme con bambini che avevano problemi notturni principalmente di bambini molto pifoni con fitted però belli belli tossi e la cover in lana anche si sono trovate molto bene poi non so magari quanto è grande la tua piccola insomma se magari ha 4 anni ma la cover in lana mi viene da dire che per quello che dicevamo prima rispetto a una mutandina in pool è vero che la mutandina in pool garantisce il fatto che esca meno però non assorbe mentre invece la cover in lana assorbe anche quindi aiuta un po' nel discorso dell'assorbenza ecco non so se ci sono però forse sì adesso questa è marca di sana questa cover in lana però insomma se si scrive cover in lana su internet non sono tantissime quindi insomma magari per controllare se fanno anche taglie per bambini più grandi magari potrebbe provare e altri chiedono se fai noleggio ma hai già detto Valeria e ti chiedono anche dove comprare usato dove comprare usato e vabbè ci sono gruppi facebook anche insomma più di uno qui ci si può iscrivere dove ci sono proprio album di pannolini usati quindi sì questa è la via più semplice che mi viene in mente insomma dove si trova un bel un bel giro di pannolini quindi gruppi facebook dedicati proprio ai pannolini lavabili compro vendo scambio regalo sì sì qualcosa anche non so sui classici vendita online però su questi gruppi qua si trova che sono proprio dedicati ai pannolini lavabili allora qualche marchi come distinguono un buon pannolino da uno scadente ok allora prima vi dicevo che comunque ci sono tanti siti italiani dedicati a insomma articoli mamma bambino che vendono anche pannolini lavabili generalmente tutti questi siti che hanno anche pannolini lavabili vendono solo pannolini certificati quindi Silvia ti abbiamo perso se ci senti non so se ti ho perso solo io no mi sa che ti abbiamo perso ecco ci sei? no la sanità chiocciolino ok non so dove ero arrivato vi dicevo che appunto su questi siti dedicati a mamma bimbo tipo italiano insomma e persa trovate pannolini lavabili che sono li vendono proprio che sono certificati insomma non vendono cose non certificate quindi andate molto tranquilli se comprate su siti dedicati insomma articoli mamma bambino e se ad esempio andate su Amazon trovate anche pannoline a 5 6 euro ecco questi evitateli perché insomma li chiamano in gergo sempre se trovate se cercate qui su internet i cosiddetti cinesini niente in contrario insomma poverini però insomma sono solitamente made in Cina ma senza certificazioni e qui c'è un po' anche un dibattito tra chi utilizzo i pannolini perché tanti li comprano per via del prezzo però ciao Nadia però secondo me decado un pochino il discorso nel senso che se io prendo un pannolino lavabile un po' per tutti i motivi che abbiamo detto prima però è un materiale non certificato quindi che non so che trattamenti abbia avuto diciamo nella filiera a livello di spiancamento eccetera eccetera e non so secondo me decade anche un pochino il perché utilizzare insomma pannolini lavabili quindi vi direi non comprate un pannolino che costa 5-6 euro 7 insomma è un po' strano ecco quindi controllate sempre comunque che nella descrizione ci sia scritto che i materiali sono certificati quindi la certificazione è più standard diciamo che quella o ecotex e e poi per i materiali appunto tipo il cotone potete trovare anche la certificazione GODS del del biologico e marche che mi richiedeva Valeria ma ce ne sono varie anche perché dipende da come ti trovi perché tanto le persone non è che si trovano bene con tutto ci sono delle marche carine cioè quello che magari per me è il mio top di gamma magari un'altra mamma non si trova ma semplicemente perché magari la mia bimba ha le cosce grosse così un'altra bambina ha le coscette piccoline quindi a me veste benissimo mentre invece magari un'altra mamma non so magari quello lì veste largo e quindi magari anche un po' problemi di aderenza eccetera eccetera non è detto che quello che sia meglio per me poi è meglio anche per voi è un po' appunto una scienza empirica bisogna provarli ci sono I do eccola lì sì io volevo chiederti anche tanto che rispondi a quella un prezzo indicativo visto che magari me lo sono persa perché stavo leggendo le risposte un prezzo indicativo visto che i cosiddetti i pannolini di Amazon hanno un prezzo di 5 euro io più o meno so ma per dare un'idea di un range poi sicuramente come dicevamo prima un pannolino artigianale avrà magari un prezzo un po' più elevato una cura dietro differente rispetto magari a un pannolino gestito a livello industriale però i prezzi poi non sono così distanti sono distanti magari 5 euro sì magari tra questi qua che dici te sono industriali piuttosto che artigianali magari c'è una decina di euro di differenza dipende dal modello stando su un modello già completo quindi che ha sia la parte impermeabile sia la parte assorbente quindi che può essere un tutto in due un pocket o un tutto in uno e dai sulla ventina 20 22 anche 25 poi ce ne sono sì più o meno dai teniamo una media una media di 20 ok giusto per avere un'idea perché poi se sai che un pannolino costa lavabile tipo poca tipo all in one così costa indicativamente un 20 euro sai che 5 euro è un po' basso 50 euro magari un po' alto è come la fascia quella che è gasferica però va bene o se piace assolutamente l'importante è farlo in sicurezza certo e allora avevi avevi va no hai due mini koala perché i due mini koala non li abbiamo ancora progettati per cui per adesso pocket e l'aria se ne è andata l'aria se ne è andata sul tivella però gli avrei e quindi pocket e tutto in uno e wet bag e e e altre cose che fa Nadia molto carine interessanti e ti chiede ancora Valeria inserti cotone bambù canapa cambia assorbenza morbidezza calore qua qua abbiamo un mondo esatto e c'era anche una domanda sui papà no se fai un corso avanzato per i papà perché c'è stata una lavatrice di tre ore senza detersivo dicevano però io non lo so se c'è ancora Matteo o se è in linea che ci sta sentendo ma poi ci sgridano quando diciamo queste cose perché poi ci sono i forma consapevoli si se vuole dire qualcosa ma non so se mi sento dal piano di su no dai poveri papà insomma comunque magari ci vuole un po' di più però poi magari a volte siamo anche noi che ci mettiamo meno pazienza nel spiegare le cose esatto magari noi partiamo convinte allora si usano i lavabili no vabbè aspetta cioè devono capire un attimo magari noi siamo più rapide l'utilizzo della lavatrice spesso non sempre ma è più della donna e quindi sai devi cambiare il pannolino mettere in conto che devi dividere i due pezzi usare la cioè ci vuole un attimo non fa niente basta basta prendere un attimo di pazienza si migliora anche perché poi magari noi una volta presi bene dai lavabili passiamo un bel po' di tempo a cercare informazione quindi abbiamo tutto ben memorizzato immagazzinato magari mariti o compagni papà hanno bisogno di un pochino più di tempo o si perdono meno anche nel nostro mondo dai diciamola anche se dal lato serio però va bene per tutti ecco non è solo per mamme anzi e allora sui materiali e poi magari entriamo nel campo di Nicoletta quindi magari io ho già dato basta parlare di materiali no come volete in realtà determinate cose ci sto sempre però esatto un sacco di domande la Claudia esperienza tra inserti e buste ok allora per quanto riguarda i materiali in effetti prima vi dicevo che quando cominciate a informare vedete un sacco di tipologie e anche con differenti tipi di materiali li classifichiamo subito in due quindi i materiali di derivazione naturale e i materiali di derivazione sintetica quindi quelli di derivazione sintetica tipo micopile tipo 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 il colmax e quelli di derivazione micro fibra scusate e quelli di derivazione naturale appunto bottone canapa e bambù principalmente sono questi in fibra di ortica ancora non le ho viste e qui perché pensano l'ortica questo sederino non è che pungerà ecco allora quelli sintetici e quelli naturali ognuno ha le proprie caratteristiche e i propri punti di forza diciamo spesso vengono usati anche in combo quindi insieme per utilizzare i pregi di uno e i pregi dell'altro e i fanolini in tessuto naturale ovviamente sono tessuti naturali quindi già questo insomma è il loro il loro pregio è il loro plus e vanno un po' anche in gradazioni di assorbienza quindi sì insomma tendenzialmente canapa e bambù scusa per cui spesso gli inserti aggiuntivi o i booster quello che mi chiedeva prima Claudia la differenza tra gli inserti booster i booster sono quella aggiunte diciamo quando il pannolino magari che abbiamo non è più adeguato diciamo alla quantità di pipì che fa il mio bambino perché magari quando ha un anno e mezzo fa quella pipì tipo adulto che la molla tutte insieme quindi il pannolino rispetto a quando il bambino aveva due mesi fa un po' più fatica quindi magari ha bisogno di un'aggiunta e allora posso prendere magari un booster questi in gergo si chiamano così e di solito questi booster sono appunto anche in canapa per essere molto assorbenti e i materiali di derivazione sintetica quindi microfibra soprattutto vengono molto utilizzati nella parte assorbente soprattutto la microfibra e hanno il vantaggio di rimanere un pochino più asciutti perché se sottoposti diciamo a pressione mandano quindi il peso del bambino mandano il liquido verso il basso e la parte superiore che è quella a contatto con il sederino rimane un pochino più asciutta rispetto a un tessuto in cotone dove assorbe e si bagna ecco quindi anche lì è un po' a discrezione vostra della preferenza vostra della preferenza insomma anche del sedere del bambino sempre mia esperienza personale non ho avuto preferenze in merito ai materiali nel senso che li hanno tollerati entrambi quindi ho pannolini di materiali veramente differenti e alcuni pannolini che hanno inserti solo in microfibra e a un certo punto è possibile che bisognerà smetterli questi inserti soprattutto pocket con inserti solo in microfibra perché assorbono ma quando il bambino comincia a fare quelli pipì importanti importanti potrebbe non essere più sufficiente la sola microfibra per quello vi dicevo che magari a volte vengono usati in combinazione ai tessuti naturali mi vorrebbe da dire che viceversa i tessuti naturali quando compri il bel pannolino nuovo fantastico lavato una volta assorbono molto meno sono come l'asciugamano sia il bambù sia il cotone se sono di seconda mano di solito assorbono un po' di più perché il nuovo fa più fatica ha un'assorbenza minore quindi l'utilizzo in realtà sulla fibra naturale potenzia l'assorbenza esatto infatti a volte consigliano che si comprano nuovi magari e il bambino deve ancora arrivare o anche se è già arrivato magari di buttarli insieme ad altre lavatrici così intanto si lavano e nel giro di 8 9 si dipende poi dallo su questore non è che non assorba ovviamente un pannolino tutto in cotone vi accorgerete che via via che si lavano e che si utilizzano raggiungono proprio il loro mazzo di splendore eccoci qua altro ci sono altre domande inserti buono forse ci siamo a parte il corso per papà che poveretti no dai mi lascerei ma apprezzerei qualunque cosa fanno se la fanno un po' sbagliata ma in realtà poi è tutto da vedere però il mio forse perché il mio è ambientale quindi è più improntato a determinate tematiche però secondo me i papà forse sono più consapevoli oggi cioè gli uomini da molti punti di vista sono più consapevoli per quello che dicevamo all'inizio sulla parte ambientale quindi comunque sono anche un aiuto in quello bene che facciamo prima come si usa i booster i booster sono adesso qua non ce li ho e non riesco a migrare per andare a prenderli però sono sono come dei inserti ha detto che poi ha finito le domande ecco come adesso questo è un inserto lungo perché è quello del pannolino però immaginatelo più piccolino e semplicemente lo andate a inserire dentro il pannolino che si ha il pocket dentro la tasca sia un tutto in uno lo mettete dietro dietro gli altri inserti e va a potenziare semplicemente va a potenziare l'assorbenza ok fra l'altro mi viene anche in mente che i vari le varie fibre quando dicevi le varie caratteristiche però hanno anche vari cioè oltre a varie caratteristiche di assorbenza hanno anche varie caratteristiche dal punto di vista di antimicotico antimuffa cioè il bambù è antimicotico la canapa per esempio è molto potente sull'antimuffa quindi ognuna lavora come la lana hanno tutte le loro caratteristiche poi le bisogna solo studiarle e provarle e sperimentarle vale sei sicura che sei soddisfatta non hai altre domande lo so che non si può andare a trovare Silvia ma questa è una comunicazione fra di loro comunicazione interna tu Silvia cosa dici sei soddisfatta vuoi raccontarci ancora qualcosa andiamo verso i saluti beh allora così mi sembra più o meno di aver sviscerato tutto poi non è detto perché ogni tanto fanno domande mi viene in mente ah sì è vero per quante ore potresti parlare di pannolini lavabili è un bel mondo la chiamo quando sarà ora va bene hai ancora un po' di tempo per pensarti dai faremo un primo cambio in diretta fra l'altro in realtà dovevamo ancora vederci noi per fare a te il rebozo quindi è vero però ormai è così ormai è così è tutto più semplice di quello che sembra cioè come ma come per la Fabio per qualunque cosa nuova bisogna provare poi per chi sì sì esatto poi magari per chi non ha è il primo bambino magari non ha ancora avuto figli il tema della cacca penso sia proprio semplice la dirlo ma è vero il tema della cacca è quello un po' più inquietante sarà una settimana interessante qua fra cacche pannolini spannolinamenti però vi assicuro che insomma si toglie e si lava insomma come vi dicevo prima io non sono un genio delle cose di casa però tutti i miei pannolini sia quelli che ho avuto insomma di oli che quindi hanno due anni e mezzo di vita sono bianchi quindi hai garanzie del fatto che se non ce la possono fare tutti grazie sei confortante in questo bene dai allora facciamo ti ringraziamo un sacco adesso sono scese un po' le persone ci hanno salutato nel frattempo io comunque sto parlando da due ore si si saranno anche un po' spazientite alla fine altro che i bambini che si svegliano si addormentano comunque la diretta rimane l'altra l'ho già caricata anche questa rimane nelle storie poi te ci mettiamo d'accordo per scambi vari e se riesco come sto cercando di fare sempre ultimamente scarico anche questa diretta e la metto su youtube così rimane non è una qualità altissima perché è registrata da cellulare io non ho grandissimi mezzi però è lì quindi la nostra voce la sentite le nostre facce vabbè le vedete ma più o meno siamo così ti chiedono un'ultima cosa serve sicuramente più è un po' non avresti apprezzata di più nella sua fantastica bellezza e da quando ti sei messa ad allattare ti sei girata un po' un po' allora ultima cosa prima di scappare per sé i biologici cosa consiglio allora tendenzialmente se tipo andate al supermercato almeno vi dico quelli più famosi della mia zona è difficile trovare qualcosa di veramente ecco io tipo anche la Winnis è la marca più green di solito che c'è al supermercato quindi tendenzialmente quelli che trovate in erboristeria insomma o da Natura Sea o da negozi simili in Natura Sea insomma vanno bene leggete dietro che non abbiano enzimi profumi sbiancanti ottici per cui non so tipo il Solara o il Green Natura però adesso non prendete queste due solo perché sono le uniche che vanno bene insomma sicuramente ce ne sono altre e allora approfitto anche per dire che invece io utilizza il Terrawash già che ci siamo quella è una cosa che mi manca è un acquisto che non ho fatto ho lasciato te andare in primi se guadagnia guadagnia 5 lavatrice settimana 5 e 6 e quando finisce il suo potere lavante si può tagliare il sacchettino e buttare le sfere di guadagnia nel prato ecco ecco noi ci troviamo bene lo uso anche per i pannolini lavabili anzi lo uso per i pannolini lavabili comunque non è incompatibile con i detersivi quindi se si ha un bucato particolarmente sporco si può aggiungere un pochino di detersivo che non succede della niente quindi anche qua eventualmente non si fida la peggio del peggio scusate poco 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 detersivo quindi un po' meno esatto ne basta pochissimo per chi vuole il suo profumo perché poi quello rende cioè i tessuti sanno l'odore di tessuto ecco si chiama terra wash proprio terra come terra e wash il detersivo fatto in casa con i saponi in marsiglia va bene chiedo allora lì allora non ti so dire non avevo sperimentato di persona sui vari gruppi adesso non so se magari riuscite a iscrivervi anche ai gruppi facebook di pannolini lavabili ci sono un po' di opinioni contrastanti sul sapone di marsiglia per il fatto di rendere un po' di creare come un po' una cera diciamo sulle superficie però ecco non ti saprei dire ti vorrei dire a priori di no perché io non l'ho mai provato il detersivo fatto in casa con il sapone di marsiglia quindi magari provo a scuriosare un pochino in internet anche te a vedere se ci sono un po' di opinioni che hai ricordato sì ma a me spiegavano che il sapone di marsiglia dipende molto dalla base perché in realtà me l'hanno spiegato dal punto di vista chimico ma è un casino non saprei ripeterlo neanche sotto tortura quindi forse dipende proprio dagli elementi di base con cui è fatto il sapone di marsiglia ha un alto potere sbiancante quindi da quel punto di vista è buono però effettivamente anche io so dell'effetto patina una cosa che non abbiamo detto dovrebbe essere ovvio però io lo so che poi non lo è gli ammorbidenti che fanno effetto cera sia sul pannolino sia su soprattutto anche sulle parti che dovrebbero assorbire e invece se noi creiamo la patina che viene normalmente è una cera praticamente che si infrapone fra la parte assorbente quindi fra la stoffa e il sederino e il bambino quindi poi non va più ad assorbire efficacemente quello che deve fare nella sua funzione questa stessa cosa succede con gli asciugamani di casa e sappiate che se mettete la morbidente nella lavatrice perché l'asciugamano è un po' accartocciato va ad assorbire meno l'umidità oh yes no però hai fatto bene a dirlo perché infatti prima non l'avevo succede anche quelle fasce ma mai se voi cercate una fascia super mega morbidente ecco non metteteci la morbida usatela domatela strizzate non metteteci ok yes bene grazie allora grazie anche a te che ci hai dispensato un sacco di informazioni un sacco di consigli ti hanno fatto un milione di domande bene ci sono dei capelli ci sono dei capelli lì sotto ciao ciao dai allora grazie e ci vediamo all'incontro sullo spannolinamento yeah ci vediamo il sabato mattina dovete iscrivervi è gratis ma dovete iscrivervi vi lascio le cose tendenzialmente a Samantha ma a Zilli che gestisce le iscrizioni io sono co-partecipante ma fa tutto lei da questo punto di vista io sono tranquilla ciao Veronica ciao ciao grazie a te ciao a tutti ciao a tutti più di te più di te più di te ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti